I festeggiamenti diciamo che non sono finiti, non sono ancora finiti perché contiamo di celebrare la promozione sabato 15 festeggiando con gli sponsor, i commercianti di Francavilla che ci hanno dato una mano, l'amministrazione comunale, gli amici, il popolo, la gente che ci ha seguito. Quest'anno molti nelle dirette sulla pagina perché non si poteva entrare nei palazzetti e poi dopodiché iniziamo questa immediata programmazione per cercare di essere immediatamente competitivi nella massima serie. Il desiderio è quello di rimanerci ora che ci siamo, quindi sicuramente fare una campagna qui è importante e nello stesso tempo confermare quel gruppo storico e solido che ci ha portato al raggiungimento di questo obiettivo.